Ancora oggi, dopo oltre due mesi di incendi, la Calabria continua a bruciare. Secondo i dati della Protezione Civile Calabria, quest'anno i roghi sono stati quasi il doppio rispetto allo stesso periodo 2016. La provincia dove si sono registrati il maggior numero di incendi è quella di Cosenza, ma le cifre sono in continuo aumento anche in tutte e quattro le altre province calabresi. Una situazione senza precedenti, quella di quest'estate, lunghissima e senza piogge. Uno scenario desolante, decine di migliaia di ettari di boschi andati in fumo e diversi piromani finiti con le manette ai polsi. Ieri, l'ultimo arresto, i carabinieri hanno sorpreso un 33enne identificato in Antonello Angì mentre stava piccando un incendio. L'uomo di Catanzaro ha candidamente detto ai militari di aver appiccato le fiamme perché gli piaceva vedere il fuoco. Incendio di vaste proporzioni, poi, sempre ieri, incontra dall'Artea a Roccella Ionica, dove il rogo si è propagato in via Micaré fino a via Giovanni XXIII, quindi zone molto popolose di Roccella Ionica. Sul posto è intervenuto anche il sindaco della cittadina, Giuseppe Gertomacco, alla presenza dei vigili urbani. Le persone del luogo, per evitare il rischio che le fiamme danneggiassero le case, sono intervenuti con i dranti. Sono state proprio le persone delle abitazioni vicine ad allertare i vigili del fuoco del distaccamento di Siderno. Decisamente più critica la situazione nella piana di Gioia Tauro, ieri a Seminara, un uomo di 79 anni, Vincenzo Romeo, ha perso la vita, pare, proprio per aver inalato fumo. Sono stati i vigili del fuoco intervenuti dopo un'allerta incendio incontrata a terra tagliata a rinvenire il corpo carbonizzato dell'anziano. Sul fronte incendi noi abbiamo fatto un ulteriore delibera ieri per chiedere la dichiarazione dello Stato di calamità per il periodo dal 10 di agosto in avanti, perché fino al 10 di agosto avevamo già chiesto, e sul fronte incendi bisognerà fare una riflessione anche in sede di conferenze Stato-Regioni, nel confronto col Governo per adeguare tutti gli strumenti legislativi, organizzativi, tutti gli strumenti che questa emergenza ha messo in evidenza.